Grazie a me, a tutti i colleghi, soprattutto la sua regalione, Santendico, dice delle maniere faccio in questo Ministero degli Interni, ci ripensi. In ogni caso do la parola al collega. Mi hai detto tu, è scandalosa la risposta in quanto con procedure in itinere potrebbero essere tranquillamente. Qui si tratta di una situazione di risorse economiche, in un'epoca in cui questo è estremamente importante, in cui di questo si tratterebbe, perché si tratterebbe di fatto un mese di non-occupazione democratica, che in una realtà come una città è nata sull'idea della velocità, la velocità delle scelte, la velocità delle capacità. Poco, basterebbe un semplice decreto per poter opporre a questa situazione. È una situazione inadeguata, scandalosa, quindi un calcolo politico a testimoniare che non è vero, con tanti punti che in quelle occasioni vengano portate come elemento costitutivo del suo programma.